Dopo la tempesta di Cibo, Flint e i suoi amici torneranno sull'isola. Qualcosa di incredibile li aspetta. Cibo vivente! E pericoloso. Accodrillo imperiale. Per salvare il mondo dovranno attraversare una giungla molto saporita. Perfino un vero uomo si compuoverebbe. Ma non tutto è come sembra. I tuoi amici ti distraggono dalla missione. In prima visione, Piovono Polpette 2, la rivincita degli avanzi. Lunedì alle 21.10, solo su Sky Cinema 1 e su Sky 3D. Uomo Polpette 2, la rivincita degli avanzi.